sono francesco spina della tecna che da anni si occupa della realizzazione di macchine per l'agricoltura al giardinaggio vi presento il nuovo tr60 un decespugliatore a ruote semovente con motore honda gcv 190 da 6,5 hp sia in versione filo che in versione dama in base all'esigenza e la tipologia di lavoro da eseguire perché scegliere un decespugliatore a ruota anziché un decespugliatore a spalla sicuramente per risparmiare fatica perché semovente avendo un motore honda da 190 con 6,5 cavalli a tre velocità di taglio consente una rapidità di lavoro nettamente superiore a un decespugliatore a spalla il decespugliatore a ruote tr60 ergonomico e flessibile e grazie al suo manubrio oltre a potersi reclinare per adattarsi alla struttura dell'operatore ci consente anche di poterlo orientare sia a destra che a sinistra il decespugliatore a ruote tr60 ci consente di poter svolgere ogni tipo di lavoro in completa sicurezza in quanto dispone di due leve che non possono essere azionate accidentalmente come già le norme in materia prevedono Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!